Buongiorno ragazzi, stiamo dando un'occhiata alla gamma 2019-2020 di Drake con tutte le novità. Passiamo in questo momento alla squad, non è una new entry, molti di voi la conosceranno già, è un ottimo il mountain della gamma. Tra l'altro vediamo chi è più attento di voi. Questo van, insomma non uso termini tecnici, robe chimiche, maschera, simboli della tavola periodica. Allora vediamo chi indovina a cosa si riferisce questa grafica che secondo me è veramente veramente figa quest'anno. Dicevamo, tavola della gamma all mountain di Drake, quindi un mezzo perfetto per tutte le situazioni, un mezzo un pochino più easy della team, quindi meno impegnativo, molto divertente, perfetto anche per girare qualche trick, qualche running park, perché no. Il profilo è un micro camber, quindi un camber più corto, solamente sotto gli attacchi, la zona centrale quindi avrà un gran pop, una gran carica. Zone flat, diciamo quasi rockerate in punta e coda per avere controllo in nave fresca, per avere meno lamina effettiva che tocca quando atterrate da magari qualche rotazione, qualche trick. Lo svincolare la lamina da una curva all'altra sarà più facile, quindi una tavola sicuramente più adatta anche per il rider meno aggressivo, magari meno tecnico. Ecco, la soletta è un estruso di grandissima qualità, è una soletta molto molto robusta, facilissima da riparare, veramente una gran bomba. Insomma, secondo me è un'ottima tavola per chi vuole un mezzo solo per fare tutto abbastanza bene, insomma decisamente bene, senza svenarsi, assolutamente prezzi super popolari per la squad. Se avete domande, magari avevate la versione dell'anno scorso, non è cambiato granché e volete sapere qualcosa su questa tavola, potete scriverci su Facebook, potete scriverci su Instagram, insomma tutti i canali, anche un commento qua sotto, mail, telefonata, siamo sempre disponibili per far due chiacchiere. A presto, ciao!